Ragazzi, mi raccomando, eh? Sì, sì, dai, dai, dai. Serie scientifici. Assolutamente. Serissime. Benvenuti a questo spettacolo di divulgazione della scienza. Infatti oggi vi racconteremo alcune curiosità della scienza, alcune pillole di scienza con cui non è sempre facile venire a contatto. Allora, quindi a cosa abbiamo pensato noi oggi per, appunto, aprire questi nostri laboratori e per, come dire, appunto fare i partecipi di quello che noi studiamo. Abbiamo pensato noi stessi di diventare, della dottoressa, i topi del laboratorio. Giusto? Guardate che carini che siete con queste ore in silenzio qui. Ma questa cosa, la sapranno fare anche i topi? Che cos'è questo? Un pennarello. Bene. Oh, eh sì, però si me lo... No, no, grazie. Cos'è? Un pennarello. No, no, non ho idea. No, non ce l'ho. Un pennarello. Quindi, abbiamo visto che gli animali, i topi, in realtà non lo sanno fare, hanno alcune difficoltà. No, dai, siamo veramente nel caldo, basta, bravo. E ci pagano pure quelle voucher, sicuro. No, no, ragazzi, dobbiamo scappare. Fuggiamo da questi laboratori. Ragazzi, qua dobbiamo fuggire dalla terra. Da terra. In realtà, effettivamente, non c'è a tanti loro. Non so se leggete i giornali, le televisioni, le guerre, le carestie, le inondazioni. Donald Trump! Donald Trump, no? Kim Jong-un, bravo. I terremoli, i vulcani, no? I vulcani, ma non è che tutti i vulcani sono pericolosi. Non è che tutti i vulcani sono pericolosi. Vero, vero, Thomas. Vero, Thomas. In effetti, non tutti i vulcani sono pericolosi. Nel senso che abbiamo due grandi estremi di comportamento di un vulcano. Nel caso in cui sputti fuori a lave fluide, invece, oppure lave un pochino più viscose. Ok? Quando la temperatura aumenta, questi teletraedri si slegano e si slegano continuamente. Siccome il legame e il silice-ossigeno è un legame piuttosto forte, questo comportamento determina la particolare viscosità della silice fusa. E lave viscose, o qualsiasi fluido viscoso, per definizione tende ad aderire alle pareti del contenitore che lo contiene. Che succede? Arriverà poi un altro apporto di magma che trova un tappo, quindi aumenta la pressione, aumenta la pressione, aumenta la pressione, finché... Crea una cosa un po' di questo tipo, no? È spazzichissimo viaggiare nello spazio. Buio profondo, spazi inesplorati. E fa la Virgin. La Virgin. Conoscete la Virgin? Quella della musica. Quella della musica. Fa la musica, la Virgin Galactic manda i raggi nello spazio. Ah, ok. Cosa hanno fatto l'Ozzi? Hanno preso questa astronave, la Cavaliere Bianco 2, l'astronave madre, l'astronave figlia. Come funziona? L'astronave madre porta l'astronave figlia, si dividono, l'astronave madre torna giù e l'astronave figlia fa quello che deve fare. Ma ecco la soluzione ai nostri problemi. Costruiremo una micella a vela e ci faremo spingere delle fotonolizazioni. Certo. Se in realtà la fai bene, la vela, e inizi a srotolare, e l'astronave, 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 in realtà la vela può diventare molto, molto. Grazie. Ma che funziona? Ma non si arriva che stia bene. Se noi ci muoviamo ad una grande velocità nello spazio, in realtà stiamo anche effettivamente viaggiando nel tempo. Il nostro tempo scorrerà più lentamente rispetto a chi rimane qui sulla Terra. Quindi se sulla Terra passano, non so, dieci secondi, per noi ne sono passati cinque. Stiamo viaggiando nel futuro. Allora, il mezzo di trasporto ce l'abbiamo. Il mezzo per volare ce l'abbiamo. Avete idea che razza? Io lo spero di scegliere, vedi? Adonate. Su Venere, non vi spero niente, facciamo contributo. Meteo a Venere. E quindi basta, sbaracca, sbaracchini, io chiudo. Voi andate. Ma Staviano, abbiamo uno spettacolo, adesso andiamo in tournée mondiale. Ma non mi spero, a parte che io andrò in Germania, dove lavorerò con i migliori topi di tutta Europa, e il mio lavoro lì verrà apprezzato. E noi che facciamo, scusa? E voi continuate a fare quello che avete sempre fatto, no? I precari. Ciao a tutti, miei cari precari. Grazie a tutti ragazzi. Musica. Grazie a tutti.